È una giornata molto importante con degli obiettivi molto chiari di spiegare alla gente e responsabilizzare le persone sull'utilizzo dell'internet. Nella vita quotidiana quando noi prendiamo la macchina, prendiamo la patente e siamo responsabili per il proprio mezzo che utilizziamo, bisogna anche spiegare alle persone e far vedere la responsabilità propria dell'utilizzo del mezzo che è il computer per l'utilizzo dell'internet. Non solo il computer pulito dà la protezione a se stesso ma anche dà le garanzie al mondo esterno sull'assenza dei rischi e sull'assenza di creare dei botnet e di contribuire nel cybercrime.